Donatella Rettore gravemente malata lascia tale quale show, ecco le sue condizioni e chi la sostituirà a foto, video Tale quale show, Donatella Rettore malata si ritira. Con un pescarno e laconico, Donatella Rettore ha annunciato il suo ritiro da tale quale show per gravi motivi di salute. La cantante, che la settimana scorsa ha fatto emozionare tutti riportando sul palco Gabriella Ferri, non si è presentata alle prove generali della trasmissione condotta da Carlo Conti, poi ha informato i suoi fan che è stata costretta ad abbandonare l'avventura. Donatella Rettore malata, ecco cosa le è successo. . Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori. Questo è il motivo, grazie così ha fatto sapere la Rettore, chiarendo una volta per tutte la ragione del suo addio dopo che nel giro di qualche ora si erano diffusi diversi rumors sulla sua decisione. . Annunciato già il nuovo personaggio che sostituirà Donatella a partire dal 13 ottobre, parliamo di Dario Bandiera, attore, comico e rumorista che dovrà imitare in tutto e per tutto Renato Zero. . Il simpatico siciliano, che ha terminato le riprese del cinepanettone di neri parenti Natale da chef, ha annunciato su socialata le quale show con Carlo Conti. Prima che cancellasse il post su Instagram poiché la notizia del ritiro di Rettore non era ancora stata ufficializzata. . Resta un V, pubblico e visibile a tutti, che conferma il piano B messo in atto dalla produzione per mandare avanti nel migliore dei modi il programma. . Non dubitiamo che Carlo Conti manderà un augurio di pronta guarigione alla concorrente che si è ritirata e così faranno i suoi colleghi di avventura, pronti d'altro canto ad accogliere a braccia aperte la new entry. . Staremo a vedere cosa riuscirà a fare Dario Bandiera a tale e quale show è. .